Spiegare una canzone a volte è anche un po' difficile per una che la scrive perché il bello della canzone è che anche un po' arriva alle persone e poi le persone la interpretano, come dicevo prima, poi ti torna indietro e la canzone si incicciottisce sempre di più a forza di andare in giro. Però, visto che sto qua, è giusto che la spieghi. Io ho fatto, essendo nata a febbraio, ho fatto la primina. Quindi l'ultimo anno della materna andavo due ore la mattina da una maestra che mi doveva preparare all'esame per andare in prima alimentare. Io mi ricordo che scrivevo pera, mela e poi le prime due ore, dalle otto alle dieci, solo pera, mela cento volte, poi andavo alla materna. Mi sentivo, rispetto ai miei compagni della scuola, proprio, io so scrivere pera. Io so scrivere mela. L'anno prossimo io vado già in prima alimentare. Non è la prima volta che ho scritto a scopo creativo, diciamo, però già mi dava delle soddisfazioni, ecco. Il mio processo di scrittura è stato sempre molto personale, nel senso che riesco a scrivere soprattutto da sola. Imparerò a fare scritture condivise, per adesso mi sto anche affacciando a quel mondo, però ho sempre scritto da sola, in camera mia, spesso anche molto per stanchezza, perché era come se sedersi al pianoforte, alla chitarra, no, e girare su degli accordi, un po' per, così, proprio per, non per sfogarsi, un po' per rilasciare la tensione, la stanchezza. Poi da questa stanchezza è sempre nato qualcosa di, no, una melodia, oppure delle parole, che mi servivano anche un po' per tranquillizzarmi, no, stare un paio d'ore in camera, sul pianoforte, girare su una melodia, è anche una forma, è sempre stata una forma un po' di consolazione. E questo quando ero un po' più piccola. Crescendo ho scritto un po' più per, per darmi invece dei consigli, per, ripetendomi delle cose che non mi piacevano di me, e mentre, per esempio, il mio primo album del 2014, era un concept album molto incentrato su uomini, donne, relazioni, tra fidanzati, un mondo molto personale, crescendo, è cambiato un po' il modo di scrittura, è anche l'oggetto della scrittura, perché ho iniziato un po' a parlare del mondo che mi circonda. E devo dire che questo ha anche portato dei, insomma, anche una crescita, perché mi sono concentrata più sul fuori che sul dentro. I feedback più belli, non so perché, ma vengono dai bambini. Cioè, io ho una schiera di ascoltatori piccoli, cioè tra i 6 e i 10, 12 anni, e si vede che percepiscono qualcosa o nella mia voce o nella faccia, qualcosa di accogliente, che gli piace, forse anche un po' per bambini. Però poi il fatto che invece poi le canzoni non siano canzoni per bambini, magari sono le parolacce, eccetera, li rende ancora più felici di seguirmi. Nel senso che sì, i feedback migliori ce li ho sempre avuto magari, non so, fuori da un concerto arriva una bambina di 10-11 anni che ti chiede l'autografo, perché magari neanche ha già il cellulare per cui si fa la foto, ma vuole avere il suo autografo sul suo diario. E quella è una grande forma di soddisfazione, perché i bambini sono comunque un pubblico veramente puro per antonomasia, quindi chissà cosa gli arriva da queste canzoni. La cosa bella delle canzoni, una volta che le scrivi, e ripeto, visto che hanno dentro qualcosa che anche viene a galla spesso da solo, quando poi le finisci e le metti fuori, quindi rimbalzano sugli altri, molte volte poi ti tornano indietro, anche solo da delle domande di alcune interviste, oppure da dei messaggi che ti scrivono, capisci di che cosa stavi parlando. Sembra un po' contorta come spiegazione, però ti spiegano molto di te stessa le canzoni che scrivi una volta uscite, perché quando escono veramente rimbalzano sugli altri e magari da una domanda che ti viene posta tu dici ah, vedi, questo è una cosa che non avevo ben razionalizzato, tu ora me la stai spiegando. Spiegare una canzone a volte è anche un po' difficile per una che la scrive, perché il bello della canzone è che anche un po' arriva alle persone e poi le persone la interpretano, no? Come dicevo prima, poi ti torna indietro e la canzone si incicciottisce sempre di più a forza di andare in giro, però visto che sto qua è giusto che la spieghi. La prima canzone che ho scelto di spiegare è Troppi preti e troppe suore, che dal titolo può sembrare un po' così solo provocatoria, invece c'è dietro un bel po' di pensieri, di riflessioni. Troppi preti e troppe suore è nata, dopo che ho visto su YouTube, una serie di spezzoni presi da un incontro tra Vescovo Giuseppe Zenti e l'astrofisica Margherita Hack con un mediatore che insomma gli faceva delle domande ed erano esposti, infatti si chiama dialogo tra fede e scienza, esposti le loro prospettive, i loro punti di vista su dei temi anche esistenziali, sull'infinito, sulla morte, sulla ricerca, eccetera. E mi aveva proprio stregato il punto di vista di Margherita Hack perché mi sono proprio rivista in tantissime sue risposte. e quindi un po' troppi preti e troppe suore contrappone un po' il mondo del dogma statico senza grandi evoluzioni, proprio perché si basa sul dogma, a quello invece della ricerca, che sia ricerca scientifica ma anche ricerca artistica. Chiedo scusa a chi ci crede, spera nel trascendentale, pur io sono i miei santini, ascolto le loro parole, scienziati, mezzi passi, sono poeti, gran pittori, sono astronomi, tevati, sono artisti, sono dottori. Lo so che sono dei paroloni, però troppi preti e troppi suore, in poche parole, è una canzone sulla secolarizzazione. E la secolarizzazione è questo processo per cui bisognerebbe allontanare sempre di più, diciamo, dividere la sfera del privato da quella pubblica che condividiamo tutti. Quindi semplicemente io penso che la fede debba rimanere nella sfera privata, perché se no ci troviamo a lottare con persone che pensano che una cosa è giusta, una cosa è sbagliata, ma nel momento in cui uno rispetta le leggi e condivide lo stesso spazio, non è che deve per forza subire la tua idea del mondo, della sessualità, di cosa è giusto e cosa è sbagliato, in poche parole. Io il senso di colpa ancora non ce l'ho, quindi va a fan walk dove non lo so, now all'era sta storia del peccato originale, che infatti anche a mia madre l'ha trattata sempre male. Allora, i co-protagonisti di questo pezzo è un coro di bambini, tra l'altro un coro di bambini di battipaglia, che anche saluto e ringrazio. Appunto i bambini sono i co-protagonisti, perché mi piaceva far dire a loro in maniera molto innocente, spontanea, e anche un po' così, dicendo un po' di parolacce, perché in quel periodo avevo rivisto Io speriamo che me la cavo, ed ero rimasta stupita che in un film appunto di fine anni Ottanta, inizio anni Novanta, non mi ricordo, i bambini comunque dicono delle cose, cioè, abbastanza grevi, non è che sono così edulcorati. Quel film è bello proprio perché vedi dei bambini già adulti con una loro personalità e una loro identità, no? E quindi un po' da lì ho mutuato questo pezzetto dei bambini. La cosa che faccio dire a loro è appunto che palle questa storia ed è ancora del peccato originale, che infatti anche a mia madre la trattate sempre male, che è un po' per dire che gli stessi bambini, che si chiamano, no? Di solito sono la voce dell'innocenza, e ci hanno sempre ragione loro, dicono, andiamo avanti, è come se dovessero superare degli schemi culturali di cui tutti facciamo parte e io stessa, ecco. È un modo per parlare anche di macro temi giganti in maniera molto rapida e anche un po' da una parte non molto ironica, però ecco, già che lo dicono i bambini è una maniera innocente, come dire. DNA nasce da un beat di Dada, il mio produttore, che mi ha dato questo beat che ci piaceva molto perché sembrava molto francese. E allora sai che per antonomasia, no, la musica francese è una musica anche molto intima, i cantatori francesi parlano sempre a bassa voce dei fatti loro. E allora ci stava bene su quel beat far partire una serie di riflessioni molto intime e personali. Infatti tutta la canzone si susseguono una serie di domande che mi faccio e poi invece nel ritornello diventa un po' più un po' più aggressiva. Dalla mia ossa prendi i carboni faccio un anello 2000 gradi diventa un diamante uh, penso che è bello puoi tenermi tra le dita tutto il tempo il resto del mio corpo in cenere disperso al vento. E in effetti questo pezzo un po' si ricollega con troppi preti e troppe suore nel senso che nonostante io abbia fatto il classico ammetto che sono molto affascinata dal mondo scientifico perché appunto una volta avevo letto che se tu ti fai cremare levi le particelle di carbonio dalle ora esattamente il procedimento perfetto scientifico non me lo ricordo però dalle tue ceneri può uscire fuori un diamante e mi piaceva l'idea appunto non credendo io nella vita oltre la morte l'unica vita che esiste per me oltre la morte è quella diciamo artistica o scientifica quindi no di cose che uno lascia agli altri esseri umani oppure delle infinite possibilità che la scienza ti dà cioè che dà delle ossa poi effettivamente la materia si trasforma e diventi un un anello se anche non riuscirò a fare niente di buono nella vita sappi che puoi no anche se non lascerò mai niente se non sarò brava abbastanza da lasciare qualcosa al mondo sappi che dalle mie ossa puoi comunque se hai tenuto a me se mi hai amato se mi hai voluto bene dalle mie ossa puoi farci un diamante lei si arrampica come un'elica se non l'ascolto poi lei si vendica io la chiamo voce io la chiamo voce ma è solamente una questione di DNA e DNA appunto è la protagonista della canzone sempre per questa cosa per cui secondo me non esiste divisione tra anima e corpo nel senso finché siamo qui è un tutt'uno visto che la canzone si chiamava DNA nel ritornello ha messo lei si arrampica come un'elica se non l'ascolto poi lei si vendica io la chiamo voce nel senso se io se io ignorassi la mia vocazione quindi la chiamo voce ma perché vocazione era un po' troppo lungo se io ignorassi la mia vocazione e non mi impegnassi su questa cosa che mi piace molto fare che è scrivere le canzoni portarle in giro pensarci eccetera starei male se non dessi retta a quella che è veramente la mia vocazione la mia voce e quello che voglio fare nella vita e quindi mi piaceva l'idea di dire lei si arrampica come un'elica perché l'elica del DNA sembra che non ha inizio e non ha fine quando uno lo vede sui libri di scuola e quindi mi piaceva questa idea che fosse questa vocazione questa cosa che ti preme dentro una tua urgenza di scrivere di fare le canzoni che ti gira in pancia come quelle spirali che non hanno inizio né fine e questa canzone parla di questo